Siamo con Gianluca Susta, senatore della Repubblica. Quando ci sono le elezioni amministrative, solitamente sia i vincitori che i vinti dicono ah ma erano solo amministrative, non è un segno politico. Mentre invece, forse proprio anche per la congiuntura di questo momento, sono elezioni importanti. Sono elezioni che danno un segnale forte e soprattutto sono elezioni dove il primo partito forse è ancora l'astensionismo e questo in una democrazia è abbastanza grave. Sicuramente c'è un dato politico. Ci sono ragioni amministrative e ci sono ragioni politiche che non vanno sottovalutate. Così come non vanno sottovalutate, come dire, l'immaturità o l'inesperienza di chi ha vinto queste elezioni anche sia dell'arangio che dell'appendino. Quindi dal mio punto di vista è vietato minimizzare quella che è una sconfitta nel centro-sinistra, nel partito democratico. In un'Italia però in cui c'è un po' a macchia di leopardo, perché il PD resta il primo partito, vince comunque Milano, tante altre città. Il centro-destra riesce a vincere in città importanti come Novara, come Trieste. E poi c'è il fatto eclatante di Roma e Torino, che è il vero dato politico. Perché su queste elezioni si concentrano alcuni fattori grandi, che sono il malessere di una fetta della nostra gente, di quelli che questi anni di crisi hanno toccato più duramente. perché si concentra il malgoverno di una città come Roma. E come non è che possiamo attribuire le colpe del malgoverno di Roma solo alla giunta alemanno, non rendendoci conto che c'era un sistema di potere negativo che riguardava anche la sinistra romana. E quindi c'è stato, come dire, un colpire duro e pesante nei confronti di chi ha ridotto la capitale d'Italia in quel modo. E poi ci sono i fattori politici anche internazionali, ripeto. Il malessere che tocca la ricca Europa in un mondo complicato, in cui miliardi di persone premono alle porte del potente per avere quegli spazi che non hanno avuto prima, una turbolenza finanziaria continua, conseguenza di anni in cui la finanza non è più stata a servizio dell'economia reale, ma è diventata essa stessa la parte principale, mettendo a dura prova gli stati e gli stessi risparmiatori. Quindi un insieme di cose che ha generato una protesta che si è diretta contro chi è stato visto come il detentore del potere. E questo spiega il voto di Roma e di Torino. Tutt'altro da sottovalutare, da minimizzare. Mi innervosisce vedere ancora qualcuno che sottolinea l'inesperienza della Raggi o dell'Appendino. Personalmente sono rimasto urtato dal fatto che negli ultimi giorni esponenti del Partito Democratico hanno utilizzato alcune vicende così poco chiare della Raggi rispetto a dichiarazioni di consulenze fatte, di fatture, sempre insistere sul fatto che abbia studiato nello studio di Previti. Vabbè, ci sono padri della Repubblica che hanno firmato il manifesto della razza di Mussolini e non è che per questo non sono diventati dei padri della Repubblica. Per cui quel modo di fare opposizione, contrapposizione, che i grillini hanno usato e usano in maniera eclatante, che però dovrebbe contrassegnare un modo diverso da parte del centro-sinistra, da parte nostra, da parte di chi ha da difendere anche modelli di governo positivi, come quello di Torino, che viene penalizzata pur essendo stata gestita bene. Quindi, altro che non è un voto politico, è un voto politico. Bisogna capire che cosa c'è dentro il cuore della gente, nella pancia della gente, bisogna ritornare in mezzo alla gente. Il fatto che il centro-sinistra perda ovunque, in quartieri popolari, la dice lunga sulla rottura di un filo, di un dialogo che pure c'è sempre stato. Io, anche nel mio piccolo, sono passati per carità tanti anni, ma attendevo serenamente il voto delle periferie, cioè sapevo che se tenevamo nel centro della città il lavoro che avevamo fatto in termini di servizi sociali, di dialogo, di partecipazione democratica della gente più semplice che viveva nelle periferie, ci avrebbe aiutato a vincere. Così non è stato per il centro-sinistra a Roma e non è stato per il centro-sinistra a Torino. È una doccia fredda da cui bisogna trarre degli insegnamenti. Nulla di tragico, secondo me, nulla di tragico, perché la dialettica democratica adesso costringerà il Movimento 5 Stelle a uscire dalla protesta permanente e dalle frasi fatte e dalle dichiarazioni lette che qualcuno ha scritto e costringerà a governare. Quando si governa, ci si deve assumere delle responsabilità. La prima regola dovrebbe essere quella di non dare le colpe a chi c'era prima e quindi di mettersi alla prova, perché se la raggi dà la colpa a Marino, Marino aveva buona ragione di darla dalle mani, le mani aveva buone ragioni di darla a Veltroni, no, non ne aveva buone ragioni, ma comunque l'avrebbe fatto, avanti così non si risolve. Adesso Appendino deve governare Torino e vediamo se riuscirà nei prossimi 5 anni a fare quello che negli anni precedenti hanno fatto a Chiamparino e Fassino, cioè hanno trasformato una città decisamente deludente ormai, compromessa, una città industriale che stava decadendo, grigia, l'hanno trasformata in un salotto europeo, hanno restituito la sua dignità di capitale. Speriamo che l'Appendino faccia uguale. Da persona che vive a Roma più di metà della settimana, io dico che spero che vengano a raccogliere i rifiuti, che rimettono a posto i sanpietrini, che non si trovino ai topi morti quando piove, perché galleggiano e annegano, perché sono cose vere, non sto dicendo delle cose che non succedono. Ed è chiaro che la gente sarà attenta a queste cose qua, però non basta per governare una capitale, una capitale che rischia di perdere delle grandi occasioni, come quella delle Olimpiadi, che non ha un collegamento tra le strutture periferiche, l'auditorium e lo stadio olimpico, non ci sono collegamenti per arrivarci, sono chilometri dal centro, ogni tanto c'è un pullman e qualche taxi. Non c'è una metropolitana degna di questo nome come c'è a Barcellona, a Marcia, a Madrid, a Parigi, a Londra, per carità. Quindi vediamoli su queste cose, misuriamoli senza pregiudizi, senza irrisioni, perché non mi sembra che tutti noi abbiamo diritto di irridere nessuno, tantomeno la raggia e l'appendino per essere acerbe e immature. Quindi una grande riflessione si impone a tutti noi e siamo entrati in una nuova dialettica politica. Anche Renzi deve abbassare la sua guasconeria, io sono assolutamente d'accordo con le sue politiche, mi posso definire senza tema un renziano, però i rimproveri che molti gli fanno, anche dall'interno del suo partito, rispetto al metodo, sono critiche fondate, perché non si può trasformare tutto in una cosa personale, non si può sempre ragionare o con me o contro di me, non si può trasformare la politica in un eterno ring. E quindi credo che verso il referendum dobbiamo riflettere su come far ragionare gli italiani, fargli capire qual è la riforma, qual è la portata alla riforma, profondamente innovativa, e che cosa invece ispira questi nuovi sindaci e questa forza politica che si candida a governare il paese. Quindi c'è spazio per recuperare, c'è cultura politica per recuperare, i valori che sono i valori tradizionali del centrosinistra vanno riproposti, però ci vuole anche un metodo diverso, meno presuntuoso, meno arrogante, votato di più a studiare i problemi, mi sembra che spesso molti problemi siano affrontati in maniera superficiale e tutto questo, poi alla fine la gente magari non lo percepisce a livello intellettuale, ma lo percepisce a livello istintivo e istintivamente lo rifiuta e quindi vota come ha votato. Ecco, senatore Susta, il centrosinistra riesce a vincere a Varese, che era la roccaforte leghista, perde però Grosseto, che forse governava da quando esisteva, e Torino però è una situazione veramente dove forse proprio la protesta ha vinto alla grande, perché arrivare al primo turno avanti di circa dieci punti e perdere il ballottaggio con uno scarto di dieci punti su un esponente come Fassino, proprio del, diciamo, una figura del vecchio partito, questo è veramente forse uno schiaffo che anche Renzi deve in qualche modo essere capace ad assorbire senza tante scuse. Guardi, se c'è proprio una persona che merita la stima di tutti per la qualità della sua persona e la qualità della sua azione, questo è Piero Fassino, io, come si sa, ho una storia politica diversa da quella di Fassino, io vengo da un cattolicesimo democratico, lui è stato l'ultimo segretario dei DS, io sono stato l'ultimo segretario regionale della Margherita, abbiamo fatto il Partito Democratico e l'abbiamo fatto per andare oltre alle nostre storie, il mio giudizio sul PD è che il PD, questo PD in questi anni non è andato oltre le storie, ha messo insieme una somma di storie ma non ha un'identità precisa, ha un capo e un corpo ma non ha un'identità precisa, però c'è proprio un uomo che ha fatto lo sforzo per unire, per andare al di là delle storie e questo è Piero Fassino. Il problema è che Fassino oggi paga due cose, la prima paga le cose che abbiamo detto prima, cioè la protesta della gente nei confronti di una situazione italiana, nazionale, europea, mondiale, di difficoltà in larghe fasce della popolazione, in cui il politico che governa oggi viene visto come colpevole, che sia a Roma o sia a Torino o sia ovunque, chi governa viene visto da questa fascia di gente che è insoddisfatta come il colpevole da pulire, per cui andiamo anche incontro al nuovo e al vuoto, però cambiamo. A Torino la seconda cosa che si paga è il fatto che comunque 25 anni della stessa classe dirigente alla fine lasciano dentro al corpo sociale un bisogno di cambiamento. A Torino quel compromesso, anche quello storico, tra una certa aristocrazia e borghesia intorno alla monarchia della Fiat, che si intrecciava molto bene con gli eredi del Partito Comunista, oggi è stata attaccata da molti. Molti hanno ritenuto che quel compromesso andasse superato. E questo provoca, al di là di come è stata governata la città, che è stata governata benissimo, e che quel compromesso ha prodotto risultati molto positivi nel cambiamento strutturale di Torino, restituendole il suo afflato di veramente capitale, la gente dopo un po' comunque non l'accetta più. Vuole cambiare, vuole provare un altro sistema, vuole vedere altre facce, vuole vedere governata la città da altri. Specularmente la stessa cosa avviene a Varese, 25 anni di giunta leghista, un grande compromesso tra le forze imprenditoriali e il ceto politico della Lega. E alla fine, anche qua, si manifesta dal basso, dalla città, dalla gente, il bisogno di cambiare. E siccome i grillini ne hanno una classe politica in qualche modo di valore, e la dialettica era ancora tra il centro-sinistra, il Partito Democratico e la Lega, ha premiato il Partito Democratico. Quindi, anche questi fenomeni sono da vedere, sono da studiare. Cioè, la gente dopo un po' manifesta il bisogno di cambiare. E questo è quello che spiega il vuoto di due realtà differenti, anche per quantità, come Torino e come Varese. Però c'è un dato politico ancora più importante. intanto il centro-destra esiste. Gli manca il profeta, gli manca il Berlusconi di turno, gli manca il leader, quello che sa unificare le forze del centro-destra. Manca quello che in Germania fa la Merkel, quello che in Gran Bretagna fa Cameron, quello che in Francia fanno Sarkozy e Juppé, che si contenderanno alle primarie. Manca il profeta. Ma se quelli trovano il profeta, il centro-destra esiste, in campo, dal punto di vista dei voti ancora milioni di voti. L'Italia è tripolare, non è bipolare centro-sinistra contro Movimento 5 Stelle. Assolutamente no. Il centro-destra è totalmente in campo. Il voto di Milano lo dimostra. Ma non lo dimostra il voto di Milano. Lo dimostra il voto di Savona, lo dimostra il voto di Novara, dove il candidato del Partito Democratico perde in maniera significativa, importante, era il sindaco uscente, che ha preso il 28% al primo turno, cioè niente. Vince di nuovo Trieste, vince Pordenone, vince Grosseto, che non è vero che non era sempre stato al centro-sinistra, perché Grosseto ha avuto sindaco anche al Teno Matteoli, che è stato ministro di Alleanza Nazionale, e vince tante altre città minori in Italia. Quindi il centro-destra esiste, esiste il Partito Democratico, che comunque rimane il primo partito d'Italia, ed esiste il Movimento 5 Stelle. Questa Italia è un'Italia tripolare. Quello che sta avvenendo in Italia di diverso rispetto agli altri paesi è che non capiterebbe mai in Francia che Sarkozy si allea all'Alepeng contro Hollande. Semmai è Hollande che sceglie Sarkozy per battere l'Alepeng. Quello che sta avvenendo in Italia è un fenomeno molto strano, che in un sistema tripolare si stanno coalizzando i due sconfitti contro il vincitore. Fassino che va avanti di 12 punti, 11 punti al primo turno e perde il secondo turno. Perché? Perché l'Appendino aumenta di 84 mila voti i suoi voti, 84 mila voti. Fassino tiene i suoi voti al secondo turno, anzi, 7-8 mila in più ne fa. Ma l'Appendino aumenta di 84 mila voti, che sono i voti del centro-destra, che sono i voti della Lega, di Forza Italia, di quel mondo lì, che pur di punire il Partito Democratico vota il Movimento 5 Stelle. Cioè, sono fenomeni anche politici da studiare, ma da capire, da governare. Ancora una volta, ancora una volta, l'Italia dimostra tutta la sua originalità rispetto agli altri paesi. Cioè, in Europa non capiterebbe mai che un uomo di centro-destra, un Juppé, un Sarkozy, pur di fottere, scusate il termine, un socialista, vota uno del front nazionale. In Italia succede che per battere Fassino si sceglie l'Appendino, anche se si parte dal presupposto di essere Forza Italia Centro-Destra. Quindi, anche questi fenomeni, sono fenomeni da studiare, ma attenzione a rincorrerli. Io non rincorrerei proprio. Non è che adesso il Partito Democratico, spero che nessuno salti in mente, di brandire bandiere, se non anti-europeistiche, euro-scettiche, di mettere in discussione le riforme che abbiamo approvato faticosamente in Parlamento in questi due anni, di mettere in discussione la riforma costituzionale, rimettere in discussione tutto quello che è stato fatto, perché bisogna rincorrere l'elettorato. No, bisogna capire che quell'elettorato vuole delle risposte sul piano sociale ed economico di attenzione in un questo momento ancora di difficoltà rispetto alla crisi. Adesso tocca agli altri governare il cambiamento, capire in che mondo viviamo e capire se davvero dobbiamo uscire dall'Europa, uscire dall'euro, smetterla di crescere, pensare tutti solo a coltivare l'orto e a non fare più fabbriche, diminuire gli investimenti in campo energetico perché adesso ci dobbiamo tutti fare il risparmio attraverso il patire il freddo. Cioè, ci sono dei discorsi sulla decrescita felice che stanno facendo anche quelli del Movimento 5 Stelle che io spero entrino poi dentro all'orecchio della gente e comincia a guardarsi allo specchio la gente e dire ma è davvero questo quello che noi vogliamo? Quindi, tutto questo comunque fa sì che si stia ricomponendo un quadro in cui tutti in realtà diversi dell'Italia sono chiamati ad assumersi delle responsabilità. È finito il tempo in cui qualcuno stava in Parlamento o in Consiglio Comunale a blatterare perché poteva dire quello che voleva perché non aveva da governare. Adesso la Raggi e l'Appendino e il Movimento 5 Stelle devono governare Roma e Torino cioè due città strategiche non dell'Italia ma dell'Europa e devono dimostrare di essere in grado di governarle. Se lo faranno gli elettori lo premieranno e questo sarà anche un segnale di rassicurazione se per caso dovessero vincere le elezioni politiche. Se fanno come hanno fatto a Livorno o a Parma ecco io credo che allora capiranno che non ci si improvvisa mai nessun compito tantomeno in quello di governare di governare le città ma tutto questo senza né processi alle intenzioni senza irrisioni senza utilizzare atteggiamenti strumentali nei loro confronti che sul piano personale proprio non li meritano neanche ma con la severità di chi dice ci avete punito severamente noi adesso vediamo se voi siete in grado di essere più bravi di quanto Piano Fassino sia stato governare governare Torino a essere meglio di quelli che hanno governato Roma negli ultimi dieci anni ci vuole veramente poco e lì quindi da un certo punto di vista basterebbe proprio poco per entrare in sintonia con la città ma le grandi strategie che richiede una città capitale e che è una è la più bella città del mondo e che quindi chiama più gente al mondo richiede anche un atteggiamento diverso rispetto solo all'attenzione alle piccole cose è chiaro che però in questi anni sono mancate anche le piccole cose e quindi anche quelle faranno presa quindi siamo dentro a una situazione politica estremamente difficile che però richiede prudenza saggezza capacità di analisi di intelligenza e non solo tweet e post su Facebook anzi io credo che la gente di tweet e di post su Facebook ne abbia le scatole piene e che si attende forse che il Presidente del Consiglio alzi il profilo del suo impegno e che nello stesso tempo instauri anche un rapporto continui ad avere un rapporto diretto come ha avuto con l'opinione pubblica ma in maniera più come dire empatica rendendosi più comprensivo delle complessità che non possono essere tutte tagliate con la scura e col coltello ma che devono qualche volta essere anche elaborate e trattate in maniera un po' più disponibile anche al confronto verso chi non la pensa come la pensa come lui questo malessere lo rileviamo anche in Parlamento alla cinquantasettesima voto di fiducia anche su provvedimenti su cui non ha proprio senso mettere il voto di sfiducia anche qualcuno come me ha manifestato il suo disagio al capogruppo e ai vertici del gruppo parlamentare in questo caso del PD io non sono iscritto al PD però faccio parte del gruppo del PD dopo lo scioglimento di scelta civica ma devo dire del gruppo di scelta civica devo dire che un po' di disagio anche nella maggioranza c'è per una questione più di metodo che di merito sul merito invece io dico che bisogna andare coraggiosamente avanti sulle riforme incominciare da quella costituzionale dobbiamo far capire che questa riforma costituzionale non tocca minimamente i diritti dei cittadini rende però più veloce il processo legislativo rende meno complicato il processo legislativo perché chiarisce i rapporti tra ciò che devono fare le regioni e ciò che devono fare lo Stato evitando i conflitti della Corte Costituzionale che in questi anni hanno paralizzato l'attività diminuisce comunque il numero dei parlamentari perché il Senato non avrà più i poteri che ha non darà più la fiducia non voterà più tutte le leggi e solo quelle riforme costituzionali le riforme elettorali i grandi atti politici ma non darà la fiducia al governo non dovrà legiferare su tutte le materie e sarà composto da sindaci e da consiglieri regionali che saranno eletti dai cittadini quindi voglio dire portiamo il merito di questa grande riforma che stiamo portando l'attenzione adesso la battaglia si deve concentrare su questo non deve però essere una battaglia Renzi si Renzi no e se vogliamo cambiare le regole per migliorare l'Italia non per mantenere questo quel presidente del consiglio io mi auguro che che si possa davvero trarre una grande lezione ma anche con serenità con saggezza con prudenza con intelligenza capire che non è che è stato sconvolto il mondo c'è un tripolarismo nuovo in Italia con questo dobbiamo fare i conti probabilmente bisognerà intervenire anche sulla reggia sulla riforma della legge elettorale sulla legge elettorale primo perché dobbiamo fare una legge per il senato secondo perché bisogna capire che questa Italia tripolare è diversa rispetto al clima e al sistema che c'era quando due anni fa è stato immaginato l'Italicum forse qualche ritocco anche lì ma anche lì bisogna farlo in confronto alle opposizioni e non contro le opposizioni leggi elettorali come le riforme costituzionali dovrebbero essere fatte con un largo consenso con la riforma costituzionale eravamo partiti bene siamo finiti come sappiamo a maggioranza purtroppo semplice adesso vediamo se ci sono le condizioni per una legge elettorale che in qualche modo aiuti a mantenere unito il paese senza far venire meno i diritti di tutti di poter partecipare alla vita parlamentare comunque anche qua bisognerà avere il tempo ci dirà le prossime settimane ci diranno se ci sono le condizioni oppure no è chiaro che adesso fino al referendum nulla verrà toccato dopo il referendum si capirà come si evolverà grazie a tutti